Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frenkie, oggi sono qui insieme ad Endry Alla raga Per il quarto episodio di Red and Blue Allora io direi che puoi iniziare a distruggere questo da sopra Ah giusto, adesso nello scorso episodio ce l'avamo lasciati alla fine che avevamo trovato E' un piccone che ho dato a lui Piccone E' infatti cuoce del diamante Perché ci servirà per rompere Solamente che dobbiamo Ah forse ho capito La giucela del ferro Noi ci dobbiamo fare il coso di ferro perché ha detto che con la Allora col carbone però per cuocerlo Con l'albero Come il carbone per cuocerlo? Come lo cuoce se non è il coso? Ah giusto Allora mazza sta cosa è proprio craft Tra la fornace di fa Questa mappa mi sta piacendo davvero tanto Perché mette il manca Però là è solo un blocco Ah forse sta a mezzo là Ci ne stanno pure qua Allora io vado a prendere A sto punto ho la legna Allora damme altri Altri Quattro delle cobblestone Ti do sta roba Ti do sta roba Ciao Io vado a far la fornace in un angoletto Ok io adesso Vado a prendere Il ferro Pairing Ah però ci serve pure il legno Di prendere l'albero per la bucocco Allora intanto io Ah però ci serve infatti Perché non possiamo rompere il ferro Quanti ferro hai preso? No non posso c'è quello di legno Ah beh quello di... Ah ha davvero ragione Allora adesso uso un attimo il mio fantastico pugnetto Dava così da fabbrico tutto io Ok Andiamo lo sbotto Tanto non serve tutto Boh secondo me si però guarda che genio che è sto qui della mappa Occhiano a sprecarlo perché poi ci servono pure Per gli sticchetti Allora Oh tutto di un fiato Eh porca miseria ogni volta arrivo sempre là e cado Allora stick Comunque Ci stiamo secondo me sempre di più avvicinando alla fine Sì secondo me sì perché cioè Guarda che mappa Guarda che lì Oh pure una mela Fica La mela Ok adesso rompo qua voglio vedere se c'è del diamante Cioè non c'è mica Eh infatti c'è del diamante qua Oh vieni un po' Qui c'è del diamante Immaginate di trovare il diamante così Aspetta qua cadrà Cadrà Cade una Scendi No Aspetta Devo rompere altri blocchi Devo craftare Devo craftare Ok C'è altro diamante mazza però Scusa con solo Ah beh che ci serve solamente il piccone però Ci serve un terzo cosa Eh allora sarà nascosto sto benedetto terzo blocco Ok Devi mettere nel forno Eh no Ci dovremmo fare il piccone di Ah è già fatto di pietra Sto cercando Lì ce n'è uno Qua magari non troviamo altri Dobbiamo andare alla ricerca Allora dia vai a prendere Da quello di pietra Vai a prendere quello là in alto di Iron Yeah Boh che strano Veloce ma anche il terzo Ma secondo me il terzo sarà un po' Difficile Boh Non so Magari è nascosto da qualche parte La cosa la terra si può distruggere Boh non lo so Vedi vedere i cartelli Che cavolo sto parkour Vabbè veramente no però No eh No no Ok qui ho preso il ferro Però ma l'hai data Dove è fatto Boh qui altri distributori non ci sono Quindi vuol dire che Vuol dire che la cosa si sta facendo Cosa stai facendo scusa? Niente niente Lascia stare Floor walls No solamente il wood E lo stone E or E tutti diciamo i gioielli minerali del cavolo Serve un altro pezzo di iron Non l'ha preso no? Sì eccolo Sta qua c'è? No tieni Io ne frattevo Allora abbiamo trovato il primo pezzo di diamante Ok L'altro ce l'abbiamo L'abbiamo visto dov'è Secondo me stanno nascosti qua Scaviamo tutto quello che si può scavare Boh No qui poi non c'è Allora Ma che cazzo Aspetta Non mi è nascosto qua No Sto maldito Non mi è nascosto Ma dov'è Dov'è Ok Abbiamo appena realizzato che non c'è Aspetro qui c'è C'è un po' di carbone Ok lui si è fatto male Chia, 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 chia Cos'è? Quello di ferro Ok Ok Ho preso io al primo diamante Il primo diamante Ah eccolo Ah eccolo Ho trovato con l'altro Vieni Dove 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 Donna Ah ah Nascosto qua Probabile credo No ne è infatti Eccolo qua Oh diamante ce l'ho Ah Ah melo Conquista ottenuta Diamante addirittura Ok tienite Però dovrò avere io l'onore di spaccarlo Ok E' rimasto l'ultimo che Tanto vent'anni Pino che sblocchi ossidio Che alla fine Che alla fine del Terribile parkour No Guarda che ha fatto Nora Avete visto L'avete visto lui Ci sono gli animali qua Sono fatti apposta dal gioco Passa la lucida Ok Questo potrebbe essere uno degli ultimi Parkour finali Ok L'albero non c'è più purtroppo Oh oh Ok rompe il diamante E lo ottiene l'ultimo E muore Si sacrifica per la patria Lui Lui si sacrifica per la patria Ok perfetto Mi sono respawnato Tipo Affanculonia Perfetto E che ne so Ma noi facciamo cose un po' legali Ma è suicida Mi sono sacrificato Per la patria Voglio il mio piccone Dammelo a me Dammelo a me Dammelo a me No No Maledetto Dammelo a me Non ti impedisco di arrivare Perché non è No Non hai messo il pvp Stolo Ok vai Ok Apro io l'onore Ah È morto Ok È il momento di spaccare Questa terribile ossidiana Il materiale più resistente del mondo No 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 Quindi Ce la prendiamo Allora Qualcosa mi dice Che forse ci potremmo anche Quei bottoni contemporaneamente Proviamo eh Ma prima Quei bottoni contemporaneamente Non è che abbiamo fatto tante cose Vabbè Comunque Proviamoci Allora Io ho l'ossidiano Allora 3 2 1 No Non succede un cazzo No Vabbè Ma poi sarebbe stato un po' possibile No Secondo me E secondo me Dobbiamo farci Dobbiamo craft Tantacoli Ma non ce l'è più Sì infatti ci possiamo fare Una press Vai farla allora va Come cazzo si fanno Per un bottone Come le ti fanno E come si fanno Speri non lo so Ma cioè io aspetta Non ti Sperci colpiti di riscola E' fatta l'è Vabbò fatto Ok Pietrisco che è Cazzo ne so Ah Che è che a Blastone Sì Pietrisco l'hanno chiamato Eh Allora Quisto cos'è Alla please Dampi York Torno No Dio piccola di diamante Aspetta Aspetta Faccio ancora altra roba Io Oh Attenzione Ossidiana Attenzione Vabbè cominciamo Perché queste Però Queste sfide finali Oddio No 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 This dark No this room So dark So cold Merda Questa no Cosax Questandre è terribile C'è seccato Faccio di assurdo Se cadono Vado nel vuoto C'è il ghiaccio No Pol fight No No Che Cos'è La valle di neve Dovolo Dovolo Buttale Nelle pressure plate Oddio mio Mamma mia C'è io sono Alcurtro Ma C'è se lo vede Poi lo vedrai Comunque tipo Sulle sbarre Ma è un'amplice Tipo Il ghiaccio Ma è tipo Bastardissimo Questo Questo Infatti Secondo me Ma che Cazzo Le palline di neve Che vanno sul ghiaccio E scivolano Ah si Ok io l'ho fatto Ah Ho una lettera Con una cassa Carta Proseguo Oddio Cos'è qua Allora Bof You need Cioè entrambi Avete bisogno Dovete Prepararvi Prima di andare Ci sono delle rotaglie Con due minecart E qua Non so che succede Poi te Ah che ho metà aperta la porta A me comunque Eh io ho superato Il parkour Ovviamente Sono pro Ah 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 Aspetta ancora non si è arrivata l'altra prova Ah no aspetta l'hai fatto Oh sto vicino a te No 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 Ah faccio Ah faccio Un pezzo di gatto Sì pura me ma da un pezzo di gatto Un pezzo di gatto Un pezzo di gatto Eh no spettacolo Ok Eh qua l'ho fatto io Beh 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 Oh no Oddio che devo continuare No no viene scendi 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 Ok una pezza di carta Vabbè Pure a me Allora mettiamoci di entrambi qua Aspetta non tazzardare a portiere Ok Allora Mettiti nel minecart 3 Do one Eh l'hai provato te Sì Però io mi sento che è tipo una ferrovia assurda Mo c'è stata Eh assurda infatti Boring No bring the cards with you Eh dovresti dovremmo Eh perché mi sa che dopo ce ne sta un altro Ancora più Ancora un po' più intrippante Ok ma è Ok andiamo qua Oh Ma che c'è No Ah il 3 3 è il numero E a te cosa mi A me mi ha fatto A Eh 3 3 e A Vai Vanno premuti insieme forse Proviamo Allora aspetta 3 2 1 Ah infatti si è aperta la porta Evviva Abbiamo superato il codice di sicurezza E allora procediamo Vai Lui rimane Cosa ci sarà Cosa ci aspetta In cima Questa terribile Ok altro minecart This is a one time ride Make sure you are both in the minecart This cannot be reset Ok quindi dobbiamo essere Dobbiamo metterci a fermo Non proemerlo Aspetta qua che vediamo un attimo Vabbè Ce ne dobbiamo andare A più presto 3 Vai premite ma Aia Oddio Questo è lunghissimo Guardate lui Guardate lui È fuori dal minecart Perché è del 9 No Oh oh Cioè il minecart va dietro E tu stai davanti C'erano le frecce che ce l'hanno lanciata Oh Occhio la dnt Oddio 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 presto attraffato la leva della della ma fammi vedere un attimo ma che cosa è che cazzo no fermo un attimo fermo un attimo questo padre no ma che cazzo no pp dove sei bene sotto al buco a me mi sentivo baggata efe aspetta ma è stato il buco ma io sono sul tetto diverso ma porca miseria mi sono perso la scena finale vabbè ma no ah ok vabbè buco ok qui qui non c'è niente allora scale scale all'avventura sembra ancora non sia terminata finita thank you so much thank you so much for playing perfetto evviva abbiamo finito la mappa ragazzi 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 incredibile ce l'abbiamo fatta e addirittura in tempo perchè il timer del mio telefonino sono 4 episodi perfetto è la serie più lunga che è stata mai fatta dun 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 ok beh devo dire siamo riusciti quindi a fuggire dalle trinzie di un dottore maestro pensavo di caricare un po' di episodi carico dal terzo e il quarto finisce ma che cazzo beh quindi potrete vedere il terzo e il quarto episodio nel canale di andry dal suo punto di vista ehm beh niente vi ringrazio per questo piccolo supporto che mi avete dato questa mappa mappa spettacolo la casa col camino esatto ve la consiglio comunque perchè è una mappa carina insomma un peccato perchè è un po' cortina insomma ehm anche se vabbè il terzo episodio è tipo lunghissimo comunque ci rivediamo al prossimo ehm mappa la prossima custom map ehm ciao ciao bella